eccoci qua con la 25 si è ovviamente la continua e vabbè si è giunto e kcubito nel 1694 speculari mettiamo sempre casuale dobbiamo mettere casuale e l'ultimo o c'è questo cerco del genaco posto scassuardo a benedizione non manche nessuno tipo camcruiser o la del finito abbiamo tutti i motovacci e' molto bosa quindi è molto ma questo sta questo curato di simila che aspetta ad andarsene che vi fa perdere solamente punti no mi avete visto è un loffone non so nemmeno il tocco nella partenza rapida di b2 terzo sono stati tutti indietro vabbè ecco ti pare vai tre funghi lì è stato sferato non c'è indietro non c'è un caduto affellato ecco tutto voglio vedere come fare però aspettiamo prima ecco ti pare l'ho muovi da lanciare goce rossa ah no la bomba aveva goce blu nooo 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 quelli di un attivo ieri più trenta otto non è stato semplice il suo corpo più 51 90 però quando qualche cura 8 più più 7 con il bambino lontano ok 8 continuiamo e questo è una piccola parte di punti che ho perso ora 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 ho anche una memoria del telefono che è un po' piena quindi devo cercare di regolarmi anche non posso fare tanti video ah andrix 8.734 e se ne ho dato uno ma non so chi non so che 150 sempre casual come al solito purtroppo tenter 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 finalmente una gara che ho guadagnato finalmente alleluia di 1.64 circuito gelato lo spacco che l'ha messo e se capita di nuovo ma spero di no avrò maggio il circuito di Luigi che scelta sempre la quale giapponese ma quanto fortunato quello la eh no 150 ccf giocatori vediamo di prendere un bel oggetto no secondo madonna santa preso vediamo se che mira che cosa di prima f di g di r di che è questo di prima? FZ Bluebird oppure una catra stella perché sono due di desce no FZ Bluebird ah è certo, veloce beh merda veloce così finalmente è la gara che ho chiuso primo, seee, seee non posso gridare tanto se non sei saltato in aria è il giapponese terzo ultimo, vediamo più più 72 9836 più 46, più 63, meno 7 meno 35, più 30 e così è arrivata a 7000, meno 85, meno 84 prossima costa vai cocco, iiii, cocco, iiii, cocco, iiii, cocco, iiii, ma 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 però cercherò di svuotarlo un pochino la memoria oh, CS Papa Noella, che sapete oggi è Natale, vabbè giorni è Natale, anzi è il 26 Natale, nel 1498 e vabbè continuiamo, casuale che stavo dicendo tra a quanto stiamo a proposito sette minuti e quattro, facciamo questa gara poi dopo questa gara tra la fine e la classifica cerco di svuotare un po' di memoria sapete quello spazio di tempo che è dove c'è scritto preparazione, corse, attendi ci svolterò un pochino di memoria cerco gc nel circuito di valido oh, dal Giappone si è capitato vabbè dai 15, 15, 8 giocatori ok via tar 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 ho visto comunque una grande partenza in questa gara ecco il capegnaccio qua se ne va per un po' per i fatti suoi però bisogna stare comunque attenti se il Giappone si è stato colpito però mi dispiace un pochino colpire fz blober quasi quasi sai che di quasi quasi non le lancio più i gocci verdi e i gocci rossi però le ve li lancio anch'io le li lancio scusa vai che fortuna e come non vuoi che sono andato interno quanto è bella sta canzone no se che cura ieri è proprio so preciso preciso sul cubo che il via però mi dispiace colpire anche se mi lancio vabbè dai fa niente noi cerchiamo di pararci sempre anche se è veloce nonostante abbia il lancio l'acqua dovete per te 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 no no per favore non mi colpire un show a varte si uno si è schiantato contro la banale vai gara tranquilla però abbiamo vinto buona quale è l'importante ok attenziamo stop più più 71 questa volta 9907 allora più 88 più 18 meno 7 meno 38 più 30 raggiunti 7000 950 914 vabbè ci vediamo al prossimo video con la 26 e insieme a parte ciao ciao